la vita è cara tanto cara e quel nuovo laptop di cui ho disperatamente bisogno è un po' fuori dalla mia portata così per risparmiare acquisti qualcosa di seconda mano ma chi ti garantisce che funzioni e che sia davvero come nuovo non c'è più tempo per altre spese o sorprese ma tranquillo esiste un posto dove trovare prodotti ricondizionati come nuovi a prezzi imbattibili e senza sorprese lo chiamiamo amazon renewed prodotti come nuovi a prezzi imbattibili per stare tranquilli quindi cos'è amazon renewed amazon renewed propone prodotti usati e non ricondizionati da rivenditori qualificati per funzionare come nuovi sono prodotti resi da quei clienti che non li usano più o che sono passati a una versione più recente a volte sono stati resi senza quasi essere stati usati i rivenditori qualificati su amazon renewed esaminano testano e ripuliscono i dispositivi perché possano funzionare e sembrare come nuovi prima di essere riconfezionati con gli accessori il prodotto soddisfa gli standard di amazon e il rivenditore assicura una garanzia aggiuntiva limitata di un anno il bello è che questi prodotti sono venduti a prezzi fantastici ciò significa che puoi risparmiare sulle marche che ami naviga tra le migliaia di smartphone laptop fotocamere dispositivi audio elettrodomestici e centinaia di altri prodotti ricondizionati come nuovi e grazie alla sicura esperienza d'acquisto di amazon puoi stare tranquilli amazon renewed ti dà una mano o meglio la seconda mano la garanzia di un prodotto come nuovo e il risparmio di un prodotto ricondizionato acquista su amazon renewed come nuovo meno spese zero preoccupazioni